Venerdì 4 di ottobre ore 7 e 20 siamo come sempre in diretta nell'augurarvi una buona giornata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV parte una nuova edizione del nostro appuntamento informativo del mattino buongiorno Rossini appuntamento che come dicevamo vi trasmettiamo sempre in diretta dal lunedì al sabato. Oggi venerdì 4 di ottobre stiamo per andare a vedere le prime pagine dei quotidiani locali il resto del Carlino cronaca di Pesaro e Corriere Adriatico momento che come di consueto precediamo con lo sguardo su uno dei territori sguardo che monitora di fatto anche questa allerta meteo che caratterizza anche questa giornata odierna siamo proprio al confine tra Marche e Romagna quindi un luogo molto sensibile perché sappiamo bene che la Romagna è quanto mai Convolta in questa allerta meteo ci troviamo infatti al porto canale che divide Gabice Mare Cattolica vedete una nuvolosità che sale dal mare che caratterizzerà un po' tutta questa giornata. Andiamo infatti a vedere il supporto web di 3b meteo allerta gialla per maltempo ma vedete piogge che non dovrebbero esserci nella prima fase della giornata se si svilupperanno invece probabilmente nel pomeriggio a partire dalle 17 con possibilità di temporali a partire dalle 18. Ieri un'allerta arancione che non ha causato disagi la pioggia è stata costante ma moderata qua vedete invece il quadro sulla regione Marche temporali più persistenti magari nel lanconetano rispetto ad una situazione pesarese in cui le piogge dovrebbero esserci ma esserci in forma più moderata. Vi invitiamo anche a inviarci immagini dei luoghi in cui vi trovate voi telespettatori anche per monitorare queste situazioni di eventuali temporali eventuali allagamenti o disagi derivati da queste ipotetiche situazioni che potranno caratterizzare questa giornata in questo che dovrebbe essere l'ultimo giorno di maltempo poi da domani dovrebbero migliorare le situazioni meteorologiche. Andiamo ora alle notizie cominciamo dal Carlino e proprio da un tema che in qualche modo si collega a quello meteorologico appena citato. Scuole aperte giusto così premiata la scelta di Biancani il capo dei presidi dice non siamo il capo espiatorio. Pesaro ricordiamo che ha tenuto le scuole aperte ieri a differenza di Fano e Marotta Mondolfo di fatto una scelta giusta vista che la pioggia soprattutto al mattino è stata di intensità moderata. Un editoriale di Franco Bertini del Carlino le scuole non devono mai essere chiuse vedrete leggendo anche i motivi di questa valutazione. Rimanendo in tema di scuola c'è anche il tema dei cantieri ed è con un anno di ritardo la palestra della scuola Brancati in via La Marbora vedremo all'interno i motivi di questi ritardi. Prima pagina contrassegnata anche da questa dichiarazione mio figlio aggredito nel sottopasso a parlare l'ex pugile Andrea Maggi picchiato da alcuni stranieri volevano rubargli la bicicletta e il sottopasso di riferimento è quello dei cappuccini. E poi ne abbiamo parlato anche ieri nel nostro Tg denghe anche dall'Europa monitorano il caso Fano e arrivano le disdette dei turisti contagi stabili ma nuove disinfestazioni in programma. Tornando su Pesaro la città è pronta a dedicare un luogo alla memoria di Arnaldo Forlani scomparso lo scorso anno. Poi progetto di 18 righe il comune pagò 43 mila euro si parla di denari affidati all'associazione Stella Polare in questo caso costantemente seguito dal resto delle Carlino. E poi lo sport cominciamo dalla Vispesaro che cronologicamente giocherà prima della VL gioca domani alle 15 a Sestri Levante in questa ottava giornata in cui ritrova l'ex giorno. VL invece dopo la disfatta con Vigevano si cercano le cause di questo crollo. Andiamo invece al Corriere Adriatico con la prima pagina che coincide con la valutazione di Biancani scuola aperta che con l'allerta qua vedete una foto che non riguarda le scuole ma riguarda una delle recenti frane causate da maltempo in cui vedete Biancani a monitorare la situazione assieme all'assessora Mila Dell'Adora il presidente del consiglio comunale Enzo Belloni. L'odissea della superpalestra bisognerà attendere la prossima primavera per il nuovo impianto dell'Istituto Livieri. Tira e molla tra il comune la ditta costruttrice sui giorni da concedere per la proroga. Poi centinaia di avvisi per recuperare l'Imu non versata, situazione che riguarda Pesaro. Riguarda invece Fano e lo sblocco di 18 milioni da parte del commissario Figliuolo, 8 andranno a Ponte Sasso. Terre Roveresche di gestore del comitato segna un punto al consiglio di Stato. Poi abbiamo questa notizia che esula un po' dalla provincia di Pesaro Urbino e riguarda il commissario Al Moncaro. Il ministro ha già deciso, si parla della cooperativa del vino. Ancora Fano, Denghe, altri casi sporadici, la curva si conferma in calo, l'aggiornamento del Gores sul focolaio di Fano. Le ultime zanzare catturate non avevano il virus. Una notizia dal Tribunale umiliava l'ex moglie, condannato a tre anni. E dunque queste le due prime pagine in questa giornata del venerdì 4 ottobre. Approfondiamo la consultazione delle notizie all'interno. Restando sul Corriere Adriatico, si parla appunto del giorno dopo dell'allerta con la scelta di Biancani di mantenere le scuole aperte. Lo spiega in questa intervista, la chiusura è solo un'estrema razza, è l'ultima scelta possibile, l'ultima azione che un sindaco deve prendere. Come amministratori dobbiamo assumerci delle responsabilità, dice Biancani, è sempre la scelta più facile chiudere le scuole. Ma che messaggio diamo ai giovani che di fronte alle difficoltà, la prima risposta è la chiusura. Le situazioni vanno affrontate anche quando sono disagevoli, proprio come insegnano la scuola e la vita. Il tutto, spiega Biancani poi nei dettagli dell'intervista, valutando sempre la portata dei rischi tra chiudere o non chiudere e dei disagi per quanto riguarda i servizi, ad esempio i trasporti e quello che è la quotidianità delle famiglie. Rimanendo in tema di scuola, c'è una variante urbanistica che porterà ad allargare la scuola elementare di Monte Ciccardo con laboratori e sala mensa. Più complicata invece la situazione di quello che è uno dei maggiori cantieri scolastici in corso a Pesaro, ovvero la palestra di Via La Marmora legata alla scuola Brancati, un tire molla tra comune e impresa sulla fine del cantiere. La nuova struttura al servizio di scuole e società sportive doveva vedere la luce il 31 marzo scorso, probabilmente tarderà di un anno, se ne parla proprio per la prossima primavera. Come minimo c'è il rischio di ritardo di un anno e in questo articolo si riepilogano tutte le vicissitudini che hanno portato a questi ritardi. Voltiamo pagina e ci occupiamo di questo articolo. Imu non versate, il comune batte cassa, centinaia di avvisi per il triennio 2020-2022. C'è chi dovrà pagare 38 euro e chi 20 mila. L'amministrazione deve riscuotere quasi mezzo milione. Qua vedete le foto dell'assessore al bilancio Pozzi proprio per questo calcolo dell'Imu e il presidente dell'Aspes Pieri legato a queste riscossioni. Esposto dell'avvocato Pia Perrici sulla fondazione Pescheria, la prefettura chiede un parere al Viminale. La lettera è firmata dal prefetto di Pesorubino Emanuele Savera Greco ed è stata resa nota dall'avvocato Pia Perrici, ex candidata a sindaco e fondatrice di Evolviamo, che prima di Ferragosto aveva presentato il ricorso dal quale poi è scaturita la missiva della prefettura. Poi ancora andiamo avanti, si parla di Amianto, un botte e risposta legato a quanto presentato dal Comune lunedì scorso. Ricordiamo quanto avvenuto, il Comune lunedì scorso ha presentato un bando inedito che porta, mette a disposizione di fatto 30 mila euro per un massimo di 30 interventi in caso di erogazione massima dei contributi che possono essere di 1000 euro, bando legato però solo ai privati, ai cittadini privati e non alle imprese. L'aveva giudicato inutile il consigliere di quartiere Marcello Valdinoci per quella che è la portata dell'Amianto in città, replica della consigliera regionale Micaela Vitri, secondo la quale colma luoto della regione Marche che sul tema sta facendo troppo poco. E poi inizia oggi la settantesima mostra del mercato dei fiori e delle piante ornamentali, meglio conosciuta come la festa dei fiori. E' una festa particolare perché compie 70 anni, oggi parte probabilmente con il rischio, il maltempo che la caratterizzerà, di fatto sta partendo proprio in questi minuti. Sarà ancora in Viale della Repubblica, ma come annunciato nella conferenza stampa che vi abbiamo mostrato lunedì, sarà l'ultimo anno in Viale della Repubblica e poi tornerà nel centro storico dall'edizione 2025. Confindustria, patto per la sicurezza, puntando sulla medicina del lavoro. E' stato presentato un nuovo servizio legato alla prevenzione degli infortuni e alla gestione delle malattie. E' il frutto di un accordo che Assindustria sigla con la Risk Solution. E poi vi segnaliamo questo appuntamento di domani all'Hotel Charlie, la massoneria che si apre al pubblico e si presenta in un incontro al Charlie. Si intitola La cultura della massoneria nella provincia di Pesaro Urbino, l'iniziativa del collegio Pisaurum et Fanum Fortune, che si trarà appunto domani al Charlie a partire dalle 10 con il patrocino della Gran Loggia del Rito Simbolico Italiano. Vedete qua anche la regia che ci viene in supporto con questa grafica, che riepiloga anche quelli che saranno i relatori come Marco Rocchi, Marziano Pagella e la partecipazione di Marco Vignani con la moderazione di Enzo Bacciardi, presidente del collegio Pisaurum et Fanum Fortune. Appuntamento dalle 10 presso l'Hotel Charlie Urban Hotel di Pesaro, appuntamento che sarà seguito anche dalle nostre telecamere. Torniamo sul Corriere Adriatico. Come vi abbiamo ricordato, ieri inizia la grande stagione l'ottobre legato alle rassegne del tartufo. Ieri vi abbiamo presentato la prima a partire in ordine cronologico, ovvero la mostra al mercato del tartufo di Apecchio, da sempre legata anche alla valorizzazione della birra. Si parte oggi con questa che è la prima rassegna di fatto proprio a livello nazionale, quella di Apecchio. E poi vi ricordiamo che invece da subito dopo, quella di Apecchio e anche in concomitanza, inizia la fiera del tartufo bianco pregiato di Pergo, la fiera che comincia domenica 6 ottobre, che vi ricordiamo attraverso questo spazio. Pergola, provincia di Pesaro Urbino, domenica 6, 13, 20 ottobre, Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato, Pergola, le marche che non ti aspetti, The Unespected Market. E dunque non perdetevi anche la fiera del tartufo di Pergola, tante occasioni sul territorio per gustare questo prezioso prodotto specifico della nostra terra. Torniamo sul Corriere Adriatico, lo facciamo con la pagina di Urbino, che segna lo scioglimento di Urbino, città ideale. Nessuno guida il Movimento, l'annuncio di Michelli, coordinatore di Missionario per Statuto dal 30 settembre. Resta il rapporto con gli elettori del Presidente del Consiglio, del Capogruppo Donanno e di Capponi. Andiamo ora a Fano. Ci siamo occupati ieri dell'aggiornamento sul focolaio di Denghe nella città di Fano, anche alla luce della riunione straordinaria delle Goresi, il gruppo regionale per quanto riguarda le emergenze sanitarie. Nuovi casi sporadici, sono 105 in totali, ma la curva si conferma in calo. Il quadro che vi abbiamo ripilogato anche ieri, attuale in questi primi giorni di ottobre, di 105 casi confermati, altri 14 probabili e 6 pazienti attualmente ricoverati, nessuno dei quali è gravi. È prevista un'altra disinfestazione e poi un'indicazione importante per quanto riguarda i donatori di sangue, tutti coloro che intendono donare sangue, che sono residenti a Fano, ma anche che per ragioni di lavoro transitano a Fano, verranno sottoposti al test di rilevazione della Denghe. Ci sono già stati quasi 700 accertamenti, nessuno è risultato positivo e quindi un quadro che identifica forse una situazione regressiva, così come il fatto che, vedete qua, le ultime zanzare catturate con le trappole per insetti non avevano il virus. Se da un lato si è enfatizzata la scelta di Biancani sulla chiusura delle scuole, c'è una città anche divisa sulla decisione del sindaco Ser Filippi, scuole chiuse per due gocce d'acqua, contrarie, favorevoli sui social, Ser Filippi dice «Anche la mia compagna si è assentata dal lavoro per stare con nostro figlio». Questa è una situazione che spiega questa scelta, comunque sempre complicata, perché anche queste allerte meteo sono una spia accesa molto importante sulle cautele da tenere, ma poi non sia mai la percezione reale di quanto accadrà. Ieri di fatto è stata una situazione meteorologica probabilmente inferiore alle attese e diciamo anche per fortuna. Sulla precedente alluvione invece Figliuolo sblocca 18 milioni, 8 saranno destinati a riqualificare Ponte Sasso. Parliamo dei danni all'alluvione del maggio 2023. Il sindaco Ser Filippi illustra interventi per il dissesto idrogeologico, la collaborazione dei cittadini. Ieri un'auto è andata a fuoco a Sant'Orso attorno alle 17.30. Un'auto che era in transito e dunque il conducente si è fermato notando questo principio di incendio. Poi vedete questa immagine abbastanza eclatante di una situazione che però non ha avuto conseguenze. Poi i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sedando e circoscrivendo il rogo. Si torna a parlare dell'ipotesi di gestore a Barchi, il Consiglio di Stato ha avviato una verifica tecnica, parliamo del territorio di terre roveresche, annuncio del comitato che aveva fatto ricorso contro l'autorizzazione della provincia. Passiamo ora al resto del Carlino, torneremo sul Corriere Adriatico per quanto riguarda le notizie sportive. Ed ecco qua, c'è l'aggiornamento, anzi andiamo prima sul Corriere del Corriere del resto del Carlino anche a mostrarvi alcune foto che ci mandate in particolare per coloro che rispondono ai nostri appelli anche simpatici di mandarci le foto dei loro animali domestici. Qua un telespettatore ci presenta Oliver, questo è un invito che continuiamo a rinnovarvi a voi telespettatore di mostrarci le situazioni, i luoghi da cui vi trovate oppure con chi siete in compagnia in questo caso con i vostri animali domestici. Ora andiamo sul resto del Carlino con le notizie del Carlino, ricordiamo questo tema che abbiamo già trattato sul Corriere Adriatico, tutti in classe, scelta giusta, i presidi promuovono la scelta di Biancani, assurdo che ogni allerta ci rimettano le scuole, il sindaco tiene la barra dritta sulle decisioni di far svolgere regolarmente le azioni, Roberto Rossini, capo dei presidi, dice troppo spesso ci fanno passare da capro espiatorio. Come già detto nel Corriere Adriatico, secondo Biancani, la chiusura delle scuole è l'ultima azione che un'amministrazione comunale deve fare, non deve invece essere l'abitudine. Parla invece il preside dell'Istituto Nolfi Apolloni di Fano Giombi, capisco le ragioni di Sir Filippi, la prudenza eccessiva ormai è diventato inevitabile. Qualche polemica Fano, famiglie in tilt, organizzarsi è molto difficile, il problema di gestire il lavoro e figli a casa, fortuna i nonni, ma c'è chi invece ha condiviso la chiusura. Dunque pareri divergenti anche su questo caso inevitabilmente divisivo. La denuncia dell'ex pugile Magi che vedete qua in fotografia, mio figlio è stato picchiato da stranieri che volevano rubargli la bicicletta, è avvenuto nel sottopassaggio dei Cappuccini, ricorderete non è nuovo a queste situazioni, il sottopassaggio che collega il centro storico con la parte sottostante al cavalcaferrovia, un'aggressione in pieno di giorno alle 17 ai danni di Magi, che tra l'altro è un giovane giocatore della Vispesero, il papà ha detto che è un fatto gravissimo, li ho cercati, ma per fortuna non li ho trovati. E poi c'è anche una segnalazione di furto in via Contramini, ovvero poco distante, sempre legati a furti di biciclette. Voltiamo pagina e ci occupiamo della inchiesta del Carlino Affidopoli, progetto di 18 righe, pure con errore, il Comune ha pagato 43 mila euro, ecco il documento creativo, creativo tra virgolette, con cui Stella Polaro ha proposto la manifestazione mai fatta dei murales. E poi sulla commissione Atti, Lanzi nel Mirino, maggioranza e opposizione ai ferricorti, il centrodestra dice accuse gravi, il centrosinistra una gestione non conforme di questa commissione, secondo la maggioranza consigliare. Anche il Carlino si occupa del ritardo della palestra Brancati, che doveva essere inaugurata a marzo 2024, ora l'obiettivo diventa marzo 2025. La detta vi ha chiesto un altro mese in più, ma il Comune lo ha tagliato. E poi vi ricordiamo un altro appuntamento che abbiamo citato in settimana, quello con Biosalus, il festival del biologico e del benessere olistico, che da domani a domenica si tiene a Urbino, soprattutto in centro storico, con esposizioni, conferenze, masterclass, approfondimenti sullo yoga, trattamenti, spettacoli, area kids, tutto a Urbino il 5 e il 6 di ottobre. Pesaro è pronta a dedicare un luogo alla memoria di Arnaldo Forlani, probabilmente il politico più celebre della storia pesarese, legato inevitabilmente alla Prima Repubblica. L'ipotesi è quella di una scuola o di una biblioteca, è stata votata all'unanimità la mozione di indirizzo per l'intitolazione di uno spazio all'ex premier. Parlano i consiglieri di centrodestra Marchionni e Andreoli, valuteremo le idee in merito. Anche il Carlino riporta la locandina della cultura della massoneria nella provincia di Pesaro-Rubino, questo appuntamento di approfondimento che vi ricordiamo avverrà domani a partire dalle 10 all'hotel Charlie. E poi il prossimo 10 ottobre saranno trascorsi 31 anni dalla scomparsa di Don Gaudiano, una figura storica, non solo religiosa, ma soprattutto dei servizi sociali nella città di Pesaro, che viene celebrato ogni anno con questa giornata della solidarietà. Giovedì ci sarà il ricordo appunto del sacerdote Don Gaudiano al mattino l'incontro con gli studenti, nel pomeriggio i racconti del CEIS. Andiamo ora come di consueto alla pagina che il Carlino dedico ogni venerdì ai temi di Pesaro Capitale della Cultura, inaugura Eco Cosmico, Villa San Martino al centro dell'arte, dalle sculture nella città dell'arte della comunità, si accede in un'altra zona, oggi alle 18 in via Leoncavallo si inserirà un nuovo progetto in questo percorso di sculture. Poi domenica finisce Hotel Labyrinth, questa rassegna portata avanti da Amat che di fatto ha portato tre artisti di diverso genere, dalla musica al teatro, alla danza, a creare dei loro progetti ispirandosi ad alcuni alberghi pesaresi, progetto di Amat e di Apa Hotels, questa volta sarà il turno dell'hotel Metropol dove verrà esposto il risultato della residenza artistica del coreografo San Niù. E poi, mentre si sta concludendo la settimana da Capitale della Cultura dei Comuni di Frontine di Monteporzio, si presenta la prossima, ve l'abbiamo presentata anche noi nel Tg di ieri, ne parleremo anche nel nostro magazine, San Lorenzo in campo, le mille tipicità di un territorio speciale che sarà dunque il borgo laurentino, la prossima capitale al quadrato a partire da lunedì 7 di ottobre. Altro appuntamento tradizionale di inizio autunno è quello con la Coppa Faro, le auto storiche che tornano a rombare sul San Bartolo, presentata la settima edizione con un centinaio di partecipanti, domani la parata dei boli e delle prove, domenica la competizione. E ancora, altro tema che abbiamo trattato ieri nel nostro telegiornale, quello del convegno nazionale dei commercialisti che si terrà a Pesaro il 15 e 16 di ottobre, convegno all'auditorium Scavolini, due giorni di lavori con relatori pure Caressa e Bergomi, popolari telecronista e commentatore sportivo nonché ex grandissimo calciatore, cena spettacola a Vitri Frivarena, ci sarà anche il comico Antonio Albanese in questa due giorni di approfondimenti, ma conciliata anche con momenti di intrattenimento. A Fano anche l'Unione Europea tiene d'occhio il caso Denghe, casi stabili ma arrivano nuove disinfestazioni, il centro prevenzione monitora l'epidemia, l'Aster ricorda che ci sono solo tre nuovi positivi e conferma una curva in discesa ed Enel immette acqua nel canale Albani. Intanto c'è qualche riflesso anche sul turismo, decine di prenotazioni disdette, lo dice il direttore del Tag Hotel Gino Sacchi, c'è una psicosi in merito, dal Ministero non c'è nessun rischio che questo focolaio diventi endemico. Biodigestore a barchi, servono altre verifiche, come dicevamo il Consiglio di Stato chiede perizie ambientali, l'organo ha disposto accertamenti con docenti scelti dall'Università di Ancona, il Comitato a difesa del territorio giudica la sentenza positiva. Poi andiamo a Urbino dove, come detto, si congela il movimento città ideale, è una scelta momentanea, non irreversibile, le figure chiave hanno incarichi e ora serve una nuova generazione, l'annuncio del coordinatore Lino Michelli. E poi a Urbino parte oggi il Festival del giornalismo culturale, un festival dedicato allo sguardo femminile sull'informazione, da oggi a domenica tanti appuntamenti, c'è attesa per Donatella di Pietrantonio che vedete in fotografia, vincitrice del premio strega. E poi domenica è l'ultimo giorno della mostra Subarocci a Urbino, una mostra di grande successo, di grande partecipazione, così è tornato un figlio della città, l'esposizione voluta dal direttore Luigi Gallo, ha segnato la storia culturale di Urbino, come detto domani, domenica, l'ultimo giorno per visitarla. E poi abbiamo parlato del tartufo di Apecchio, di quello di Pergola, parliamo anche del tartufo di Sant'Angelo Livado che partirà il weekend seguente, ovvero quello che comincia sabato 12 di ottobre, la 61esima mostra nazionale del Bianco Pregiato si prospetta con un programma ricchissimo di iniziative che vi illustreremo anche nel nostro telegiornale. E poi domenica c'è una opera molto particolare al Teatro Rossini, I Dimenticati, uno spettacolo per riflettere sul pensiero e la visione di Papa Francesco anche nell'ottica delle crisi economiche e finanziarie. Come di consueto diamo il buongiorno ai tanti che ci salutano come ogni mattina attraverso i canali social di Rossini TV, vi ricordiamo che siamo in diretta sul canale 80 ma ci potete seguire anche attraverso la nostra pagina Facebook e a questi telespettatori ricordiamo naturalmente anche gli appuntamenti di questo nostro venerdì sulla nostra emittente perché si chiude qui la parte legata ai quotidiani locali e vi ricordiamo appunto la settimana da capitale di San Lorenzo in campo con 50x50 capitali al quadrato che sarà approfondimento anche del nostro magazine La Natura della Cultura in onda oggi alle 8, alle 13, alle 20 così come ogni lunedì e mercoledì, domani alle 19 e così come domenica le repliche di tutte e tre le puntate accorpate domenica alle 15 e alle 21. e poi ieri prima puntata di Insieme a Canestro con le riflessioni su queste prime due giornate della VL e sulla terza che è in arrivo già domenica, riflessioni effettuate dalla nostra Elisabetta Ferri e dalla New Entry Alessio Zaffini in compagnia del presidente della Carpegna Prosciutto Basketpesor Andrea Valli e del giornalista e opinionista Michele Zavagnini per chi si fosse perso la puntata la può rivedere oggi alle 15.30 alle 22, sabato alle 11, alle 20.45 e domenica alle 9.30 e alle 14. Il venerdì pomeriggio è anche il momento tradizionale della lettura, il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Marco di Giorgio, appuntamento alle 17.30 con repliche anche il sabato e la domenica. E poi continua la nostra marcia d'avvicinamento al Festival Gad, il 77esimo Festival d'Arte Drammatica che comincerà il prossimo 14 ottobre, seconda puntata di questo format verso il Festival a partire dalle 21.20. Un avvicinamento che prosegue anche con la riproposizione di alcuni spettacoli delle passate edizioni del Gad alle 21.40 vi proporremo questa sera Fanny Money della compagnia Ramaiolo in scena. E poi questa sera le ultime notizie di questo venerdì con Rossini News alle 19.30 con possibilità anche di diretta su Facebook, poi le repliche alle 20.30, 23.30 e mezzanotte e mezza, così come ogni giorno seguente alla missa in onda alle 6.30 di mattina e alle 13.30. Torniamo a parlare di basket perché ricordiamo che Rossini TV è quest'anno la TV ufficiale della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro in questa lunga avventura della Serie A2, trasmettiamo tutte le partite in differita, avete già potuto apprezzare la sfida contro l'Ella che mi vigevano che potrete rivedere anche domani alle 15.00, poi per quanto riguarda invece la prossima sfida di domenica contro Avellino, ancora la Vitrifrigo Arena domenica alle 18.00, ve la riproporremo la domenica stessa alle 21.30 e anche lunedì 7 ottobre alle 21.00. E dunque tanti appuntamenti avete visto sulla nostra emittente dall'informazione al teatro fino al basket, tanti appuntamenti in questo venerdì e in questo weekend, mentre si conclude qui questo consueto appuntamento del mattino, buongiorno Rossini, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon fine settimana in compagnia dei nostri programmi.